Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e baffanculo! Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi abbiamo già visto due delle soluzioni per completare le sfide della settimana numero 1 della season 8, ma oggi ragazzi parliamo della stella segreta di questa settimana. Vi ricordo 10 stelline, un livello del pass battaglia extra per voi. Intanto ragazzi voglio farvi vedere subito sgrang l'immagine, la schermata di caricamento della season della settimana numero 1. L'avete vista? Non l'avete ancora vista la stella ragazzi? Ve la faccio vedere io, ve la faccio vedere io ragazzi. Vi faccio una zoomata. Guardate un po' ragazzi. Esatto, proprio in cima al campanile. Wey, non fare il pollo! Ma perché? E allora ragazzi dov'è il campanile? Beh è semplicissimo, semplicissimo. Campanile ragazzi nella nuova location dove c'è la barca. L'unico campanile che c'è non appena completate tutte le sfide, eccolo che ve lo faccio vedere meglio. Non appena completate tutte le sfide la troverete proprio là, in cima. Beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video. Mi raccomando, un bel like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto! Ciao! Ciao!